Tiziano Ricci, presidente della categoria alimentari di Casa Artigiani Taranto. Trattiamo il momento economico che vive la città di Taranto proprio sotto l'aspetto di voi imprenditori commerciali. Ormai siamo praticamente in estate. In questo scorcio, in questo inizio di estate, seppur non siamo ancora al 21 giugno, come sono andate le cose? Tra la primavera e la fine, siamo a fine primavera e quindi già qualche avvisaglia potrebbe scorgersi, in positivo o in negativo. Sì Luigi, purtroppo rappresentando una categoria le avvisaglie che scorgiamo sono abbastanza negative. Purtroppo quest'anno c'è un calo per le attività di ristorazione, quindi pizzerie e quant'altro, quasi dal 30-40%. Addirittura riscontriamo alcuni associati commercianti di abbigliamento che hanno un calo del 50%. Quindi sono cali abbastanza importanti e sono dati abbastanza preoccupanti. Io credo che dipenda molto dal fatto che quest'anno c'è un po' la moda, più degli altri anni, di andare fuori, di andare nei paesi limitrofi. Giustamente si tende ad abbandonare la propria città ed è una cosa molto, molto sbagliata, soprattutto per l'economia del territorio. Ricci, non vogliamo scadere così nel campanilismo, però è giusto che tuteliamo la nostra città, la nostra economia, che i soldini, per così dire, rimangano qui a beneficio di noi stessi, del territorio in cui viviamo ed operiamo. Il suo appello? Sì, il mio appello è quello che già ho espresso pubblicamente più volte, è proprio un invito ai tarantini, a tutti coloro che come me amano la propria città, a restare a Taranto, a far girare l'economia di Taranto, perché è importante salvaguardare adesso la nostra città, più che mai. Più che mai perché ne ha bisogno seriamente, quindi veramente a volte ci soffermiamo ad andare a cercare, come si dice noi, il tarantino è amante del forestiero, però i forestieri non vengono da noi. Ecco Ricci, occorrerebbe ovviamente anche fare una pianificazione di iniziative sul territorio, nella città, proprio per rendere appetibile il territorio e frenare questa emorragia verso i comuni limitrofi. Un impegno che chiediamo, che rivolgiamo all'amministrazione comunale di Taranto. Lei inizialmente con l'assessore alle attività produttive, al marketing territoriale, Valentina Tilger, all'inizio questo rapporto non è stato dei migliori, poi avete avuto modo di conoscervi, lei ha apprezzato il suo operato e ora diciamo un'azione sinergica tra soggetto istituzionale e voi operatori del settore. Sì, assolutamente sì, inizialmente logicamente non conoscendola, eravamo reduci da tanti anni della vecchia amministrazione, si può dire totalmente inesistente, quindi era un po' restio, un po' diffidente, come giustamente qualsiasi presidente di categoria deve fare, deve salvaguardare la propria categoria, la propria città e tutti coloro che insomma li fanno appello. Però poi ci siamo conosciuti, abbiamo avuto modo di collaborare insieme, devo dire che la Tilger è un'assessora veramente, secondo me, mai visto negli ultimi anni, così attivo, così amante della città e quindi posso avere soltanto pareri positivi per lei. Stiamo collaborando tuttora per cercare di programmare degli eventi, logicamente il comune non ha disponibilità economiche illimitate e neanche esigue, per cui dobbiamo adattarci a quello che è possibile fare. La Tilger sta facendo dal canto suo tutto quello che può fare, di conseguenza stiamo in costante collaborazione e speriamo che ne esca qualcosa di positivo proprio per la città di Taranto.